cia confezionatrici offre una vasta gamma di macchine pesatrici e confezionatrici per parecchi alimenti surgelati partiamo dalle soluzioni più semplici semi automatiche a quelle più complete e automatizzate in questo video vediamo in modo particolare il confezionamento di cubetti di ghiaccio facile nel suo utilizzo e nelle varie operazioni di pulizia con vari optional come un nastro lavabile l'impianto elettrico isolato con copertura inox e varie personalizzazioni può essere fornita anche con il comodo display touchscreen dove possono essere settati e memorizzati i vari parametri ideale per tutte le aziende che hanno la necessità di pesare con la stessa macchina con precisione e velocemente tantissimi prodotti se devi poi sigillare in modo professionale i tuoi sacchetti termosaldabili ci pensa la nostra saldatrice mini sealing con kit di stampa incluso passiamo ora a vedere alcune nostre macchine per il confezionamento in modo del tutto automatico una volta pesati i cubetti di ghiaccio vengono riversati nel sacchetto appena formato da bobina è disponibile anche con un datario o una stampante e altri vari optional possiamo pesare confezionare verdurine grigliate sul gelate ravioli in voltini spinaci e cipolle a cubetti vongole patatine fritte mix per minestroni e molto molto altro oltre alle bilance lineari possiamo abbinare alle nostre macchine delle pesatrici multitesta che permettono una produzione ancora più veloce e precisa maggiori informazioni visita il nostro canale video www.confezione.it dove potrai vedere tutta la ricca gamma di macchine cia atte a pesare e confezionare tantissimi prodotti www.csrl.it è invece il nostro sito ufficiale cia confezionatrici dal 1986 vestiamo i tuoi prodotti in tutto il mondo ciao 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 Grazie a tutti.